Cari telespettatori, buonasera e bentornati in diretta. Come ormai sapete, ogni mese ospitiamo il primo cittadino di Fano, per cui do il benvenuto a Sindaco Massimo Seri. Buonasera Sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. È stato annunciato ovviamente la sua presenza durante il nostro telegiornale, già ci sono arrivati tantissimi messaggi. Oggi vi rimarrà comunque il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338-4968-250, ma potete anche intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33. Sindaco, iniziamo subito perché gli argomenti da affrontare sono davvero tanti. Vorrei cominciare con lei da un articolo che è uscito questa mattina sul giornale Il resto del Carlino, la firma della giornalista Anna Marchetti, perché sabato scorso si è tenuta a Pesaro una iniziativa organizzata da un nuovo comitato all'insaputa pare di diverse persone. Andiamo a leggere le parti essenziali di questo articolo, in particolare la prima. L'Isippo alla protesta dei fanesi scavalcati, Dino Zacchilli, promotore del comitato fanese, dice sorpreso di non essere stato avvertito dell'iniziativa del nuovo comitato, così si rischia di rompere il fronte. E poi chi vuole soffiare l'Isippo a Fano, sorpresa per iniziative proposte da un nuovo comitato che al suo interno ha un solo fanese, l'avvocato Tonnini, è sostenuto da una associazione culturale di Urbino, l'Arte in Arte, e sabato mattina ha organizzato la presentazione in provincia a Pesaro senza avvisare il sindaco Massimo Seri nel gruppo di lavoro già esistente a Fano, costituito dall'amministrazione comunale all'inizio dell'anno. Il nuovo comitato ha tre obiettivi, la creazione del sito internet l'Isippo in Italia.it, la raccolta firme con la petizione riportiamo a casa l'atleta vittorioso attraverso change.org, a sossegno del rientro dell'Isippo in Italia, la statua è al Ghetti Museum, ve lo ricordiamo dal 1974 appunto come riportato, e poi l'avvio di un crowdfunding per un documentario sull'opera d'arte diretto da regista pesarese Piscaglia. Zacchili dice, resto molto sorpreso di questo passo fatto nel più silenzio assoluto, riferendosi all'avvocato Tonini dell'associazione Le Cento Città, che nel 2017 insieme al professor Berardi ha avviato l'azione giudiziaria contro il Ghetti Museum negli Stati Uniti, dove tuttora si trova questa statua, l'atleta di Fano. Tonini è intervenuto anche nel nostro telegiornale questa sera, ha rilasciato una dichiarazione e ha detto che l'iniziativa comunque è a politica. Ora, che cosa si sente di rispondere, visto che neanche lei non sapeva, giusto? Era lo scuro di questo? Sì, ma adesso non devo rispondere nulla perché si risponde ad una domanda, qui non c'è stata nessuna domanda. Io dico tutte le iniziative benvengano perché abbiamo un obiettivo comune, quello di riportare a Fano, non dico in Italia, a Fano il Lisippo. Va riconosciuto un grande merito da alcune figure della città che si sono sempre prodigate e hanno sempre tenuto alta l'attenzione, a cominciare dall'associazione Cento Città, dal professor Berardi, lo stesso Tonini, lo stesso consigliere Danna in passato. Quindi sono state diverse figure al quale va un ringraziamento sincero perché se in certi momenti non ci fossero state queste figure probabilmente oggi non saremo a discutere di Lisippo. Abbiamo fatto una scelta, quella di non farne una battaglia di parte ma di tutta la città, quindi di tutte le rappresentanze della città, da quelle politiche, da quelle culturali, tant'è che ad aprile, anzi prima, si è costituito un tavolo coordinato da Dino Zachilli, che ringrazio perché si sta prodigando in modo volontario, perché questa cosa va sempre sottolineata come il contributo che sta dando adesso l'amministrazione sempre in modo volontario, e si è deciso di intraprendere questo tavolo permanente in modo tale da tenere sempre alta l'attenzione, di intraprendere le iniziative, mantenere i rapporti, a cominciare con il ministro dei beni culturali, perché non dimentichiamo che oggi è anche una questione fra governi, essendo il Getty Museum negli Stati Uniti. Al riferimento dell'articolo, onestamente sono rimasto sorpreso anch'io, ripeto, benvengano tante iniziative, il fatto che anche in altre città ci sia una sensibilità va benissimo. Mi sarei aspettato, visto che c'è questo gruppo di lavoro, che c'è un sindaco che rappresenta una città, un'informazione, anche per rischiare poi di fare magari iniziative che si contrastano con loro o che si sovrappongono, un minimo di regia, di coordinamento. Poi non è una questione, non è un gruppo politico, ma adesso il fatto che uno svolga un ruolo istituzionale non è una rappresentanza politica, ma rappresenta una città, se no qui chiudiamo tutto, c'è sempre malafede, non si va, allora il ministro non lo coinvolgiamo più perché è figura politica, ma sappiamo che il ministro e poi si deve interfacciarsi anche nei rapporti di governo con gli Stati Uniti nel caso specifico. Quindi onestamente sono rimasto male anch'io, ma guarda l'obiettivo finale, fra l'altro ci siamo anche sentiti telefonicamente proprio oggi con l'Avvocato Tonini, telefonata cordialissima, devo riconoscere che la volontà è comune e quella benevola nel raggiungerlo l'obiettivo, quindi qualche incomprensione ci può stare, qualche mancata comunicazione, capita anche a me, per cui non bisogna sempre pensare male. Guardiamo avanti, fra l'altro voglio anche informare perché in questo periodo non siamo rimasti senza fare nulla, si sta lavorando per una grossa iniziativa a Roma ai massimi livelli, sulla quale stesso Dino Zacchilli sta seguendo direttamente i rapporti col Pio Sio dell'Izio dei Piceni, quindi un'istituzione molto importante a Roma. Siamo in contatto con il gabinetto del Ministro, anche stamattina, ma anche i giorni scorsi, io ho inviato una lettera già da tempo, proprio per riprendere le trattative, considerato che c'è stato un cambio di governo, c'è stato un cambio di Ministro della Cultura. Devo dire che col precedente Ministro noi si troviamo in sintonia e il percorso che aveva intrapreso era quello che noi condividevamo e oggi era necessario riprendere anche il dialogo con Franceschini che fra l'altro segue la questione, adesso stiamo aspettando anche una comunicazione per rincontrarci a Roma, proprio per parlare di questo. E sta lavorando anche per eventualmente accoglierlo nella città di Fano, perché deve essere pronta? Dobbiamo andarci a parlare di persona, perché poi le cose, un conto è la corrispondenza, un conto è anche il rapporto diretto, sulla quale si possono esprimere anche più considerazioni e si può parlare meglio. Però ecco, la cosa è monitorata, fra l'altro a breve verrà riconvocato anche quel gruppo di lavoro che attendeva proprio la risposta del Ministro, proprio dovuto al fatto dell'avvicendamento stesso. Altri argomenti molto dibattuti in questi giorni sono quelli del digestore e anche quello dell'annolfi. Cominciamo dal primo perché, le dicevo già, ci sono arrivati diversi messaggi. C'è chi dice che si sta facendo un allarmismo inutile, c'è chi realmente è preoccupato e c'è anche chi la rimprovera di aver mentito durante la campagna elettorale. Che cosa è successo, Sindaco? Non ha mantenuto le promesse? Intanto quando ci si avvicina la campagna elettorale si accendono i toni, fra poco si vota le regionali, non mi sorprendono, se poi guardiamo anche i protagonisti sono tutti molto sensibili a questo, ma ci sta nel gioco delle parti. Fondamentalmente non è cambiato nulla da quando c'era questo dibattito. All'inizio io avevo criticato, girano anche dei video che io riconfermo, perché fino a prova contraria io non ho detto nulla di diverso. Si faceva del terrorismo e oggi lo riconfermo, perché si parlava di una discarica, di tonnellate di rifiuti, cose non vere, ma io mi rendo conto è difficile quando si lancia un grido d'allarme parlando di discarica, quando poi si tratta di tutt'altro genere di strutture e di stabilimenti. Quindi io ho fatto alcuni interventi per negare questa cosa, ho sempre sostenuto, lo sostengo ancora, che un digestore per il nostro territorio è necessario, e parlo di territorio, non parlo della città di Fano, come avviene in tutte le realtà evolute, perché noi guardiamo sempre le realtà che amministrano meglio, che dove si vive bene, dove ci sono le gestioni illuminate, ebbene in queste ci sono impianti di gestori. Di cosa parliamo? Però lo dico dopo di cosa parliamo. Cosa è cambiato? È cambiato soltanto una cosa, io ho cercato da un paio di mesi a questa parte di fare un'operazione di informazione, perché qui pochi sanno di cosa parliamo. La prima cosa che ho fatto è che tutti coloro che parlano, riferito a quelli che hanno delle responsabilità, che dicono determinate cose, andiamo insieme a vedere una struttura per far capire di cosa parliamo. Diversi sono venuti, alcuni no, e mi ha fatto piacere, e chi è venuto si è reso conto di cosa parliamo, tant'è che è consapevole. Devo dire anche il mio collega Guzzi che è venuto, ha capito l'importanza che va a beneficio dei cittadini. Perché sono necessarie queste strutture? Noi ogni giorno, qui parliamo di mezzi che circono, ogni giorno circono tanti mezzi che raccolgono l'umido che girano per la città, e vanno tutti in un determinato luogo della città, vengono stoccati per poi essere portati a Ravenna. E noi ovviamente abbiamo una spesa di oltre 1.400.000 euro di costo per questa operazione. Un'operazione che tende ad aumentare, tant'è che vi è già stato un aumento del 30%, perché il mercato di questo, siccome è obbligatorio portare, conferire questo umido, parliamo della buccia di banana, parliamo dell'umido che c'è in casa, è obbligatorio conferirlo in queste strutture, e quelle poche che ce ne sono, ovviamente lo fanno pagare, e la tendenza è quella all'aumento, tant'è che chi ha fatto la gara dopo di noi ha avuto un aumento ulteriore. Allora, noi abbiamo detto, io reputo nell'interesse di questo territorio che ci sia nella provincia di Pesaro una struttura, un digestore di questo tipo, che non è inquinante, assolutamente. C'è un percorso dove esce il compostaggio che noi andiamo ad acquistare al brico, nelle strutture, nei centri commerciali, e una parte diventa biogas, come avviene in qualsiasi altra centralina o distributore dove passa un tubo di metano, perché è di questo che si parla. Tutto ermetico, tutto sigillato, tant'è che quello che abbiamo visitato è in mezzo ad un vigneto, per cui se fosse un materiale inquilino... C'è infatti chi ci chiede, ci sono problemi? Sì, no, perché poi hanno girato, hanno fatto vedere fotografie che sono ben altra cosa. Allora, io cosa ho detto? Io voglio che la città sappia di cosa parliamo, perché domani non vorrei essere rimproverato, perché magari si fa una scelta, perché poi qui chi urla di più vince, purtroppo su molte cose delicate non ci si ferma a fare un ragionamento serio, e poi magari ci si accorge che qualcun altro vicino lo fa già perché quelli... No, noi dobbiamo essere consapevoli, poi le decisioni le prende... Noi rappresentiamo una città, non è che andiamo a fare i dispetti ad una città. Per quello che mi riguarda, sono anche cittadino, io cerco di fare le scelte migliori, più giuste, nell'interesse della città che rappresenta. Sulla località invece? Allora, sulla località non si è parlato di nulla, no, ci si è parlato, nel senso ASET ha avuto l'incarico di fare delle preverifiche su alcuni siti idonei che possono essere idonei nella città, e sono quelli che sono emersi, ma questo è da mesi che è così, non c'è nient'altro, quindi non è cambiato qualcosa. Oggi è cambiato e se ne parla di più perché noi abbiamo voluto, io voglio che la città, i cittadini sappiano di cosa parliamo. Poi, ci andrà fatta, perché comunque qualcuno la farà questa cosa, non vorrei che poi ci mangiamo le dita perché l'abbiamo fatto fare da un'altra parte, io faccio sempre un'immagine di cos'è il digestore, perché poi uno non l'ha visto, anzi, suggerisco, e ho già chiesto al Presidente di ASET di farlo, qui a Fano TV, una trasmissione dedicata, ma non parla nel sindaco, i rappresentanti politici, parlano, i tecnici, quindi sopra e parte, e raccontano e spiegano precisamente di cosa parliamo e di cosa si tratta, con immagine, con disegni, con anche immagini di impianti esistenti. Fra l'altro, vorrei fare un altro esempio, un cittadino cosa preferisce? Se in un'area industriale, se si dovesse parlare di quella, la realizzazione di un'azienda che comunque produce un po' di inquinamento, dei fumi, o una struttura come questa che non produce inquinamento zero, ma veramente qui parliamo di inquinamento zero, però questo non si conosce e non si sa. Allora io non dico niente, dico semplicemente oggi, guardiamo di cosa si parla, cerchiamo, la gente deve capire di quale impianto a cui ci riferiamo, e poi si fanno le valutazioni insieme, perché su questi temi non ci sono né imposizioni, e devono essere le scelte condivise. Condivise fino in fondo, perché poi non bisogna avere pentimenti per magari aver perso delle occasioni. Prima ha citato il suo collega Guzzi, proprio lunedì scorso a primo cittadino ha espresso il suo pensiero, la sua opinione riguardo questo gestore. Ah, scusi, poi io ho sempre affermato no a Falcinetto, nel due quartieri Falcinetto, e no a Bellocchio, ovviamente nei quartieri popolosi questa cosa è che non lo comprende, ma come fare una fabbrica, perché è la stessissima cosa. Qui parliamo di uno stabilimento come qualsiasi altra azienda, con una differenza, questo inquina di meno rispetto ad una normale azienda. Guzzi però diceva, meglio, visto che avrà sicuramente un forte impatto anche dal punto di vista visivo, meglio a questo punto in una zona industriale piuttosto che in aperta campagna. Sì, impatto nel senso che un capannone è una fabbrica, quindi è uno stabilimento. Però rientrebbe in gioco Bellocchio a questo punto? Zona industriale abbiamo solo quella, ma quella sarebbe, su un certo aspetto, il luogo ideale, però qui le forzature non si devono fare, perché alla fine può essere interessato anche qualche altro, secondo me c'è, perché io avevo fatto, qualcuno mi ha rinfacciato che avevo citato anche gli esi, ma era la verità, perché anche in quella realtà sono interessati. In un primo momento cerchiamo di fare un ragionamento insieme a noi, adesso sono interessati a farlo per conto loro con il loro contesto provinciale. Quindi, allora, concludendo, in questa fase c'è una fase di informazione, di consapevolezza, anzi a me farebbe piacere, perché dovrebbero parlare a coloro che sono esperti e se le conoscono le questioni, ci sono state delle assemblee. Se ci sono degli esperti, però esperti, non chiacchieroni, o gente che gioca a fare il politico di turno, dicendo cose buttate lì, con dati alla mano veri, che si confrontano anche in modo pubblico, in televisione, che secondo me è la cosa più interessante. Fra l'altro, se guardiamo tutte le trasmissioni, quelle che si definiscono di garanzia, che ci sono, parlano in termini di best practice, di buone scelte, proprio queste strutture. Sindaco, andiamo avanti con i messaggi dei cittadini, perché sono davvero tanti, fra poco affronteremo anche il discorso del Nolfi, abbiamo anche, credo, una chiamata pronta o quasi. Intanto cedono informazioni su il Teatro Romano e la caserma dei Vigili del Fuoco, se ci sono delle novità. Sì, Vigili del Fuoco abbiamo finito tutto l'iter, siamo nella fase della gara d'appalto, quindi veramente adesso abbiamo finito e nei tempi necessari all'ufficio Appalti per fare uscire la gara e penso poi nell'arco di un anno e mezzo la caserma potrà essere realizzata. Ok, Teatro Romano? Teatro Romano, stiamo procedendo, il Teatro Romano, di fatto, il sito archeologico è già di proprietà pubblica, perché questo è pubblico, perché i patrimoni archeologici ovviamente non possono essere privati. Mentre stiamo concludendo l'operazione dell'ex Filanda, che acquisteremo come amministrazione comunale, sulla quale poi vorremmo fare un progetto ambizioso che va a valorizzare ulteriormente la città e qui si lega anche tutto il tema dell'Isipo a cui facevamo riferimento prima, che potrebbe essere la collocazione finale, ma dico anche, tornando all'Isipo, che già da oggi noi saremmo pronti, perché abbiamo la Sala Morganti, sulla quale vi sono stati investimenti, ristrutturazioni e riqualificazioni importanti. Fra l'altro ha ospitato anche la mostra dedicata a Leonardo e Vitruvio, fra l'altro con una presenza altissima, quindi è stato un grande successo, e anche questa è una soddisfazione, significa che abbiamo fatto la scelta giusta. Abbiamo una telefonata per lei, sentiamo chi c'è al telefono in linea. Pronto? Sì, buonasera, sono Michele Montesi, volevo fare una domanda al signor Sina. Sì, buonasera, Michele. Buonasera, circa la destinazione dell'ospedale di Fano. Se non è lei un pochino sconcertato per la declassificazione dell'ospedale stesso, che mi sembra che nei progetti futuri perderà l'importanza. Grazie. Grazie a lei. Sì, adesso non ci sono novità, nel senso non è cambiato nulla da un paio d'anni, diversi anni a questa parte. Se sono cambiate, sono cambiate in meglio. Nel senso, la questione è sempre la stessa. C'è una scelta che risale al 2012 di arrivare ad un nuovo ospedale, e finché non ci sarà un nuovo ospedale, ci sono le due strutture, il Santa Croce e il San Salvatore, ma il Santa Croce in questi anni ha solo incrementato attività, perlomeno da quando sono arrivato io, dal 2015, diciamo. Ma dal 2016 in avanti vi è stata tutta quella parte di integrazione fra i due ospedali, che prima era venuta solo direzione nord, anche direzione sud. Quindi in questa fase non mi sembra che ci siano state riduzioni di servizi, anzi, vi è stato un incremento. Fra l'altro, con il protocollo che abbiamo firmato, dove abbiamo discusso tanti mesi e tanti giorni anche in campagna elettorale, io penso che con quel protocollo non abbiamo ottenuto un risultato positivo rispetto alle scelte del passato. Poi io non discuto, anzi, discutiamo tutti, però certe scelte ci sono, e non è che siamo noi che le modifichiamo, sono scelte fra l'altro regionali, e noi abbiamo con quel protocollo salvato il Santa Croce, nel vero senso della parola, perché nel momento in cui nascerà il nuovo ospedale, il Santa Croce rimarrà come presidio ospedaliero a Fano, con tutta una serie di attività che non sto a rielencare. Poi il riferimento, il declassamento oggi non c'è, è chiaro, quando nasce il nuovo ospedale, ovviamente sarà una struttura di tipo diverso. Però ecco, quello è un riferimento a scelte che risalgono nel 2012, questo non dobbiamo dimenticare. Abbiamo un'altra telefonata per lei. Buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Salve. Signor Sindaco, buonasera. Buonasera. Io chiamo da Cristoforo Colombo, via Inigo Campioni. Sono la nonna di Ale, tanto per dirle, ricordarglielo. Sì. E volevo chiedere, siccome ti ho fatto già due solleciti per la potatura degli alberi, siccome che a noi, essendo le case molto più bassi, gli alberi sono al sesto piano, è possibile fare una potatura quest'anno? Grazie. Non ho capito benissimo. Comunque ho capito, si pratta di una potatura. Di potatura, sì, esatto. E mi ha le Cristoforo Colombo, chiede se fosse possibile. Sì, adesso si è chiusa la comunicazione. Intanto, adesso me lo segno anch'io, via Cristoforo Colombo, e la invito a segnalarlo anche ad Aset, che sta facendo questo lavoro di potatura. Perché ricordo, intanto a tutti i telespettatori, la scelta che abbiamo fatto, e anche questa io penso lungimirante, e c'è una nuova gestione delle Verde, che ha funzionato specialmente nel periodo estivo rispetto agli anni precedenti. Per quello che riguarda le potature, noi abbiamo fatto un piano di quattro anni, nei quattro anni si interviene in tutti gli alberi pubblici della città. Ogni anno, una metà la individuiamo noi, una metà saranno su segnalazione dei cittadini. Per questo, dicevo alla Signora, di segnalarlo anche al numero di Aset, in modo tale che possono prenderne nota. In ogni caso lo segnalerò anch'io, in questo periodo stanno procedendo, si vede anche, anche qui poi c'è chi si lamenta perché magari si puota troppo, chi poco, se poi alzo le braccia qua perché è come col calcio, siamo tutti allenatori, qui abbiamo tutti il pollice verde. Io dico, rispettiamo chi fa un determinato mestiere, partendo che si prendono persone che hanno competenze e rispettiamo poi nessuno infallibile, per carità. Però avete visto già in questi due anni interventi importanti che abbiamo fatto in giro per la città. Adesso via Cristoforo Colombo, me lo segno. La Fran delle Buche è che si sono formate a Ferretto, non le vede nessuno? Poi ci chiedono anche di via Petruccio Cucurano e la strada del Canile, quella che porta al Canile. Sì, sulle strade, ovviamente, in questi anni abbiamo fatto veramente tanti interventi. Io penso che, e questo sia sotto gli occhi di tutti, nessuno può negare lo sforzo importante che abbiamo fatto, anche perché ce n'era bisogno. E francamente commentavamo prima dell'inizio della trasmissione, del collegamento in diretta, la differenza delle domande che arrivavano, le segnalazioni che arrivavano un paio d'anni fa, dove c'era una situazione veramente in alcuni momenti tragica. In questi anni abbiamo veramente asfaltato chilometri, chilometri, chilometri di strade. Inevitabilmente ne rimarrà sempre qualcuna che non è asfaltata e che ovviamente diventa un disservizio per chi ci abita o per chi la frequenta. L'obiettivo è arrivare dappertutto, ma ovviamente non possiamo, sono 400 chilometri di strade, umanamente impossibile. Ormai riprenderanno una prossima primavera, immagino. Sì, è possibile, ma dovremmo mettere investimenti, risorse che non abbiamo, faremo solo asfaltature. È una città a tante complessità, a tante esigenze. Ancora non abbiamo finito le asfaltature dell'appalto in corso. Adesso, entro dicembre, vorremmo appaltare un altro intervento importante, alcune strade molto utilizzate che hanno necessità e bisogno di intervento. Dico anche San Cesario, perché non so se qualcuno telefonerà, è una strada che noi vogliamo fare. Hanno già telefonato. Abbiamo già stanziato le risorse, però devo dire una cosa. Noi abbiamo un momento di difficoltà e che è dato dall'organico. Abbiamo avuto tutta una serie di pensionamenti, perché poi anche queste cose ci vogliono le persone che eseguono e seguono i lavori, che progettano. Queste sono stanziate, è un lavoro che si farà insieme ad Aset, fra l'altro. In questo momento, con il pensionamento, stiamo aspettando di fare le mobilità per rimpinguare l'organico. Per quello che arrivava alle strade, eravamo rimasti in questa fase con una persona. In questo momento si è rotto un piede. Gli faccio anche gli auguri di buona guarigione, se magari dall'altra parte del televisore ci sta ascoltando. ringraziandola, perché in questo periodo ha fatto un lavoro straordinario, da solo, per seguire i tanti lavori in corso, per cui chiedo anche un po' di pazienza, perché purtroppo... Sulla parcheggio del Buario, invece, il sindaco, visto che ci siamo... Siamo tutto insieme anche qui, parliamo... Il fuoco del Buario ha bisogno di una manutenzione straordinaria, perché effettivamente ha bisogno di un'asfaltatura. Però, ripeto, questa è la situazione in cui ci troviamo in questo preciso momento. A brevissimo, speriamo di avere qualche rinforzo per poter riprendere, ritornare nella normalità. Ora siamo in una fase gestionale delle strade di vera emergenza organizzativa interna. Abbiamo un'altra telefonata per lei. Sentiamo chi c'è in linea. Buonasera. Buonasera, signor sindaco. Sono Marco Ciavaglia. Salve, buonasera. Vorrei fargli un invito di poter cambiare la viabilità in Guinea-Zarro e Sauro, laggiù in fondo, sotto passaggio che porta al porto, perché sono tanti anni che c'è la viabilità messa in quella maniera lì, però c'è un intasamento al giorno, è una cosa impossibile. in più si divide la città a metà e chi deve tornare verso il mare, magari uno che va a prendere il figlio a scuola, poi deve fare tutto il giro o della nazionale con tutti gli intasamenti e i semafori, oppure passare per l'altro semaforo per ripassare dove c'era il vecchio Elisabeth. Chiaramente mi rendo conto che lì era stato fatto quel tipo di viabilità, perché magari poteva essere pericoloso, però se uno fa un senso alternato, oppure anche un semaforo con un'andatura magari anche forse ai 20 all'ora, però pur di non tagliare in due la città, di non rendere impossibile la vita ai cittadini, chiaramente il tratto di Guinea-Zarro-Sauro dalla rotonda fino al sotto passaggio dovrebbe rimanere uguale, cioè dovrebbe permettere le persone che vengono giù dalla discesa della fortezza di andare verso il mare. Grazie. Grazie a lei, è possibile? No, il signor Ciavaglia ha ragione, cioè mi rendo conto che quella è una viabilità che crea dei disagi, perché blocca, fa un circuito a tutti gli effetti, a meno che si acceda attraverso Viale Carducci passando per il Lido come veniva giustamente sottolineato. Io quella situazione me la sono trovata quando sono arrivato da sindaco e immagino che la scelta sia stata motivata da elementi di sicurezza perché effettivamente lì il sottopasso è stretto, c'ha i suoi elementi di pericolosità. Si possono provare situazioni alternative come veniva suggerita, senso alternato, un semaforo, io non so quale può essere l'esito, magari può essere positivo o può creare ulteriore disagio, questo non sono in grado di dirlo. Magari si può sperimentare, è una riflessione che io raccolgo, che girerò anche agli uffici che lavorano su questo per capire se effettivamente può essere una soluzione praticabile o sperimentabile, perché poi molte volte bisogna anche sperimentare, toccare con mano per capire se le cose funzionano non si va avanti se non funzionano si ritorna indietro. Colgo anche l'occasione, visto che ci sono, parliamo via Nazario Sauro, per ricordare che realizzeremo lì un nuovo sottopasso a fianco a quello carrabile, ciclabile pedonale, che consentirà una passeggiata dalla darsena borghese fino al faro in sicurezza, oltre ovviamente ad abbellire con un'illuminazione emozionale, un nuovo arredo, un intervento anche sul suolo che renderà molto suggestiva e bella quella parte della città e miglioreremo, continueremo a migliorare quel percorso che abbiamo intrapreso rendendo Fano sempre più bella, ricordo come l'intervento della via dei Ciliegi, via Garibaldi, il Pincio, con la darsena sarà veramente anche questa è una bella cosa che piacerà, sono convinto, ai fanesi. Sentiamo chi c'è in linea. Buonasera. 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 Prego. Buonasera Sindaco, mi chiamo Francesco Francolini e la chiamo per avere informazioni sul fatto di poter mettere dei passaggi, degli attraversamenti pedonali nel tratto della statale adriatica tra Gimarra e il Fosso Segore, in quanto l'ultimo attraversamento pedonale è alla fine del quartiere Gimarra e il successivo attraversamento pedonale è all'altezza del Fosso Segore. Io le ho già mandato delle comunicazioni chiedendo informazioni, lo stesso prefetto di Pesaro ha sollecitato ai comuni di dare una risposta su questo argomento, ma ad oggi non c'è nessuna risposta. Grazie per questa segnalazione. Visto che ci siamo, il Sindaco ci chiedono anche un intervento e via Dante Alighieri sempre per mettere in sicurezza i pedoni. Quindi marciapiedi e attraversamenti... Allora, queste sono due cose diverse. A Gimarra. Allora, quello a cui fa riferimento il signore, il tratto della statale. Allora, qui dobbiamo distinguere fra i tratti urbani ed extraurbani. Faccio un esempio. Ci spostiamo al sud, Torrette. Torrette nel tratto extraurbano chi autorizza a fare gli attraversamenti ANAS, perché sono strade di competenza di ANAS, e nei tratti cosiddetti veloci, extraurbani, questi non sono previsti, non sono autorizzati, salvo alcuni specifici interventi o declassamento delle strade. Infatti gli attraversi sono finché ci è consentito. Il riferimento adesso alla letra, francamente io non l'ho letta, ma può essere sfuggita per carità. Con il prefetto ci sono stati incontri, perché c'è una sensibilità sulla sicurezza, specialmente d'estate. Quando l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta insieme Fanno-Pesaro per i tratti sia per illuminarli, per illuminare gli attraversamenti. Quindi c'è una complessità. Non è che se dipendesse da noi li faremo domani, alla fine sono due strisce, ma devono essere attraversamenti in sicurezza. In certi tratti non è possibile farli proprio per garantire la sicurezza dei cittadini. Poi è vero, i cittadini attraversano anche dove non si dovrebbe, proprio per la sicurezza. Tant'è che nel tratto a Baia del Re si sta facendo un sottopasso sotto la statale per consentire l'accesso verso la spiaggia. Però è una riflessione che faremo, perché sono trattative che dobbiamo fare con Anas. In modo particolare negli attraversamenti, penso proprio via nella zona Baia del Re, zona dove sono Bagni 5, dove c'è una concentrazione di persone che vanno al mare d'estate, perché immagino si è riferito per questo periodo. E ha perfettamente ragione, perché poi succedono anche incidenti e qui ci vuole accuratezza e attenzione. Per quello che riguarda invece... Via Dante Lighieri. Via Dante Lighieri. Qui è un tema diverso, verso la quale ho una sensibilità. Ho avuto modo anche di incontrare alcuni cittadini, prendendomi anche degli impegni, perché io penso che in zone come quelle non si può consentire di parcheggiare dappertutto senza mettere in sicurezza il pedone o il ciclista, ma in particolare il pedone che passa con un passeggino. Quindi stiamo già ragionando per portare degli accorgimenti che consentano la possibilità di camminare in tranquillità, come è avvenuto in Via Mariotti, come in altre zone. E devo dire, una volta fatte, magari c'è stato qualche mugugno per la perdita di qualche posto auto, però la qualità della vita ne ha tratto vantaggio e col tempo poi queste cose sono apprezzate. Quindi bisogna ragionare se invece di parcheggiare a spina di pesce si possa parcheggiare in orizzontale. Quella è una zona fra l'altro attenzionata adesso perché rientra nel bando del concorso di idee che faremo e vorremmo far uscire entro la fine dell'anno, quindi siamo a novembre, entro dicembre, per i progetti che riguardano la riqualificazione del waterfront, del fronte spiaggia. Waterfront fa più scena e richiama più il comune linguaggio moderno, se così possiamo dire. Anche oggi abbiamo avuto questa mattina un incontro del tavolo che abbiamo costituito per tracciare le linee generali e questo progetto di idee dovrà guardare anche questi aspetti, non soltanto la parte da riqualificare come arredo, come bellezza anche estetica, ma anche come funzionalità perché nel momento in cui si fa una riqualificazione bisogna tener conto anche dei movimenti, degli accessi e dei servizi che ci sono. Ci stanno scrivendo in tanti anche per il liceo Nolfi ma dobbiamo andare per qualche istante in pubblicità e poi torniamo a parlarne a far poco. Bene, bentornati a Primo Cittadino. Sindaco, ricominciamo subito con i messaggi. Le chiedono perché abita a Rosciano? Per favore, si può riaprire la strada a senso unico a fianco del gioco delle bocce che porta a Rosciano? Quello era sperimentale? Sì, quello era per mettere in sicurezza quel tratto di strada che vedeva spesso incidenti. Ricordo alcuni gridi d'allarme anche dai occhi alla notizia che riportavano di incidenti e si invitava l'amministrazione a intervenire. Con l'aumento del traffico, con le nuove bretelle si è ritenuto giusto fare i sensi unici e far andare nella rotatoria successiva per tornare indietro e rientrare dentro Rosciano. Però abbiamo anche annunciato che saremmo intervenuti rifacendo una nuova rotatoria. Così stiamo facendo. In questo momento stanno lavorando i progettisti, hanno già avuto l'incarico da tempo. Finito il progetto dovremmo appaltare la nuova rotatoria e qui parliamo della zona Codma che a quel punto consente di togliere l'attuale viabilità e di riutilizzare l'ingresso diretto verso Rosciano. Però in sicurezza. Finché non si farà quell'intervento rimane questa viabilità. All'altezza del ponticello della Snam quando si taglia la foresta e ancora camminate lungo la strada ci sono piante secche che al primo vento forte rischiano di cadere sopra le auto. Quindi questi magari sono messaggi che ripetiamo all'asset. Sì, adesso alcune cose bisogna capire se sono sul suolo privato o pubblico. Stessa cosa a chi compete la manutenzione del boschetto che dall'ex mattatoio conduce al campo d'aviazione perché anche in questo caso versa in totale stato di incuria e a chi compete la pulizia del fiume verso la foce visto che ci scrivono che il consorzio di bonifica ha detto che non... Sì, quello non è competenza del consorzio di bonifica quello è competenza della provincia o regione adesso quella parte lì è trasferita nelle competenze della regione. Intanto ci stanno scrivendo per il digestore però io direi di lasciare perché insomma ne abbiamo parlato già abbastanza durante questa puntata magari ci impegneremo a fare una trasmissione a doc. Esatto, già ne avevamo parlato con il direttore quindi credo però insomma ci riparleremo per avere una certezza di fare un programma ad hoc. Invece per quanto riguarda il Nolfi ci hanno scritto anche genitori di studenti dicono che ci sono dei disservizi visto che non ci sono laboratori palestre ecco quindi come procede? Venerdì scorso c'è stato un incontro? C'è stato un incontro devo dire proficuo e un buon incontro e sono contento che a quel appuntamento erano presenti anche una rappresentanza di genitori perché un conto è ascoltare direttamente le cose che si fanno è un conto tutto quello che viene riportato poi quando ci sono queste situazioni difficili le polemiche nascono in alcuni casi vengono alimentate in altri casi sono anche da una mancata comunicazione per il sentito dire è chiaro ci troviamo in una situazione di emergenza perché qui sono due scuole che sono state dichiarate inagibili poi in una si è intervenuta ricosentendo l'ingresso degli studenti e un'altra no come è avvenuto in altre città perché questa cosa è accaduta anche in altre città gli anni precedenti un alberghiero di Pesolo mi viene in mente dove c'è una situazione di disagi molto più grandi rispetto a quelli che viviamo noi ma che sono disagi non tendo a sminuire anzi come è successo ad Ancona a Falconara e noi abbiamo cercato da 24 ore dopo la comunicazione delle inagibilità e qui devo riconoscere una disponibilità un senso di responsabilità a tutti a cominciare anche dai dirigenti scolastici che si sono adoperati per trovare delle soluzioni per ospitare i ragazzi cercando di ridurre il disagio un disagio che inevitabilmente esiste allora intanto tra poco sarà agibile insieme a da lunedì prossimo la palestra perché oggi c'era anche questo problema mancano alcuni laboratori anche su questo è stato affrontato con la dirigente dell'ex pravitorato la professoressa professoressa Tinazzi e anche qui si è fatto dei ragionamenti anche come avviene in altre scuole dove i laboratori entrano in classe ma in chiave di sviluppo e di modernizzazione della scuola ovviamente mettendo delle risorse per poterlo fare e abbiamo ragionato sia per le soluzioni immediate breve e lungo periodo quella del lungo periodo è quella della realizzazione della nuova scuola dove? sempre lì? sempre lì anche su questo ecco lì c'è esatto c'è chi sostiene che non sarebbe da demolire ecco su questo per carità io non sono un ingegnere ho fatto altri tipi di studi non ho fatto studi tecnici si possono fare tante affermazioni però chi ha la responsabilità e qui ripeto non è una competenza dell'amministrazione comunale noi ci adoperiamo perché è una scuola che si trova a Fano i ragazzi sono fanesi e non solo ma il comune è a fianco e cerca di a fianco sia la provincia che ha la competenza e la responsabilità sia a fianco dei genitori dei dirigenti scolastici degli insegnanti per aiutare a trovare le soluzioni migliori però ci si deve basare su quelle che sono le perizie sottoscritte dai tecnici poi sono confutabili io non discuto non lo so a Urbino ho visto un signore uscito però quando uno si va a fare una visita una lastra e la lastra dice qui c'è questa patologia non è poi qualche medico magari non è d'accordo però la lastra parla chiaro noi dobbiamo attenerci a quelle che sono gli atti ufficiali sottoscritti da professionisti da società serie che hanno già fatto altre cose io mi chiedo domani arriva un'altra perizia che dice che si cura i genitori sono tutti contenti di far rientrare i ragazzi dopo una perizia come quella che abbiamo ascoltato per cui dipende da come si guarda oggi avanti tutta per la realizzazione di una prova contraria a meno che avvengano altre certificazioni che dicono cose diverse e nell'immediato dobbiamo ridurre al minimo i disagi che oggi esistono però su questo ci stiamo lavorando e penso ci si possa arrivare perché poi non è l'unica scuola che lavora su più siti su delle succursali avviene in istituti a Pesaro avviene anche in alcuni istituti fanesi che sono collocati in più siti in questo caso intanto però volevo dire abbiamo ragionato su un primo intervento che potrebbe ridurre la presenza delle classi che sono la Gandiglio e potrebbero essere rientrare con quelle a Palazzo Petrucci con la provincia abbiamo ragionato anche di interventi per riqualificare o la parte superiore del Marco Lini o dello stesso Palazzo Petrucci per concentrare il maggior numero di classi in un unico sito così riducendo al minimo il disagio e consentire meglio l'articolazione lo sviluppo e l'organizzazione delle attività didattiche che però sono garantite e questo vanno tranquillizzate perché la qualità della didattica e qui va ringraziata sia il dirigente scolastico che il corpo insegnante che sta facendo un lavoro si è fatto carico anche con responsabilità anche di sacrifici per chi mi rendo conto magari sportarsi da un plesso ad un altro non è semplice quindi vanno ringraziati ci riaggiorneremo tutto il tavolo quindi tutti i partecipi dal dirigente scolastico dal ex provveditorato mi viene a chiamarlo così la provincia il comune la rappresentanza del comitato dei genitori che è giusto che sia presente consapevole e che partecipa con noi nelle riflessioni e nelle scelte che facciamo perché tutti devono essere consapevoli delle difficoltà oggettive che ci sono comunque noi non abbiamo mai abbandonato il tavolo c'è stato un monitoraggio costante e questo continuerà sempre per arrivare il primo ecco l'altra cosa che ho chiesto all'incontro della settimana scorsa è che si inizi veramente alla progettazione vera della nuova struttura perché anche il tema delle risorse dei finanziamenti seguono di pari passo anche la realizzazione del progetto vero sentiamo che c'è il telefono buonasera buonasera salve buonasera prego dunque io signor sindaco le vorrei parlare di via Girona Modafano sì perché è una strada disastrata quando è il momento di punta le macchine vanno giù come in un'autostrada però non disastrata perché è asfaltata l'abbiamo asfaltata tre anni fa se non sbaglio poi abbiamo il problema del ghieino che quando piove l'acqua corre come un fiume lo butta in mezzo alla strada e nessuno lo viene a portare via poi nell'angolo con via Mezio Agostini troviamo che c'è un lago di 40 cm e quando le fogne cominciano a lavorare rimane tutto lo sporco quindi fogne e auto a alta velocità non c'è una una pedonabile non può neanche passare una signora con un passeggino e i bambini quindi mentre in sicurezza la strada è in buono stato perché abbiamo asfaltato nel 2015 o 2016 adesso non è 2016 effettivamente è in discesa quindi c'è anche si tende ad aumentare la velocità è senso unico quindi anche quello il senso unico non tende a far rallentare tende ad aumentare effettivamente non c'è una parte ciclabile sulla quale dovremmo ragionare gli elementi che venivano segnalati corrispondono tutti a realtà non è semplicissimo rientra nelle riflessioni che facciamo ovviamente non siamo in grado di intervenire dappertutto e subito però quella particolare d'estate è una strada molto utilizzata dalle macchine dai pedoni dai ciclisti ciclisti in particolare che vanno verso la spiaggia del Lido oggi pomeriggio in via Giuseppe Poggi sono stati installati dei divieti di parcheggio ambo i lati non sono a conoscenza se la cosa è stata discussa con i residenti faccio presente ci scrivono che siamo in diversi a non avere il garage e che quindi il piccolo parcheggio all'inizio della via non è abbastanza capiente quindi chiedo alla sindaco dove dobbiamo parcheggiare? Poggi e Gimarra se non sbaglio dove dobbiamo parcheggiare? qui sono quei dilemmi perché quando avvengono queste cose non è che si si alza la mattina e dice adesso andiamo a fare un dispetto a quelli che abitano lì ci sono segnalazioni perché come spesso avviene in queste vie c'è una parte dei cittadini che dice basta mettere le macchine perché non sono sicure una parte dice no bisogna tenerle per esempio a me è capitato una volta mi sono trovato in una situazione non cito la via per evitare di far riconoscere le persone ed era una strada stretta e quindi siamo andati a dire qui dobbiamo fare una scelta o si mette senso unico e si continua a parcheggiare oppure si lascia il doppio senso ma non si parcheggia più perché fra l'altro c'era stato ma qui parlo di diversi anni a dietro non ero sindaco anzi ero consigliere di circoscrizione c'era stato un episodio con l'ambulanza che non riusciva a passare quando succedono poi questi episodi ci si scandalizza c'è l'emotività che prende il sopravvento e ci porta a fare delle scelte beh lì la via era divisa veramente a metà nel chi sosteneva una teoria chi sosteneva l'altra poi quando non si riesce a fare una sintesi poi l'amministrazione gli uffici tecnici prendono loro la decisione adesso questa di via Poggi francamente non la conosco sono stati messi in questi giorni mi sfugge la ragione con il telespettatore magari se poi la regia mi fa avere il numero mi prendo l'impegno di richiamarlo e spiegare qual è stata la ragione e la motivazione della presenza di questi nuovi cartelli andiamo a Sant'Orso la via Orlando Sora via di 200 metri sono 30 anni che via Abito ci scrivono e l'asfalto non c'è più ed è anche pericoloso quindi anche questa segnalazione se possiamo raccoglierla visto che la signora o il signore è già diverse volte che ci scrive via Orlando Sora poi chiedono anche quando verranno installate le telecamere perché verrà insomma completato questo sistema di video il piano di video sorveglianza giusto? viene aumentato adesso dobbiamo installarne di nuove verso Pesaro zona Gimarra e zona Sant'Orso quindi sono altre telecamere previste devono essere si deve fare la gara per l'acquisto ok chiedono anche come verrà riqualificata e se verrà riqualificata la zona del Bersaglio questo rientra nel allora intanto nella zona del Bersaglio c'è deve essere realizzata parte della strada delle barche con un intervento sia su Viale Ruggeri e sia nell'ex pista dei Coccari quindi rientra in quel progetto complessivo quello no questo è già finanziato e le risorse sono da utilizzare nel 2020 quindi nell'anno che entriamo siamo novembre 2019 quindi entriamo nel vivo e poi per la strategia complessiva ovviamente la demandiamo a questa gara di concorso di idee che facciamo tenendo conto che lì c'è una pianificazione prevista dal piano regolatore che prevede degli insediamenti e un trasferimento anche della viabilità più a monte lasciando tutto il percorso ciclabile pedonale ed è riqualificato tutta la parte diciamo nel Viale Ruggeri però questo è condizionato allo sviluppo delle lottizzazioni detto questo per quello che mi riguarda quelle cose che oggettivamente possiamo fare noi in questo momento stanno dentro la progettazione del waterfront cioè del fronte spiaggia che vorremmo appaltare entro dicembre chiedono se invece per Ponte Sasso per il lungomare di Fosso 6 ore se è possibile insomma collegare i due ciclabili e anche se a Ponte Sasso sono previsti degli interventi sì il discorso che abbiamo fatto su Sassonia e Lido vale anche per Torrette e Ponte Sasso perché questo concorso è doppio non ne abbiamo voluto fare uno per tutti i 20 km di costa perché sarebbe stato un lavoro difficilissimo e realizzabile così noi li abbiamo divisi con un impegno un intervento nella parte nord e un intervento nella parte sud della città che penso che bisogna tornare in via di molti anni prima di vederne uno come quello che prevediamo noi Sindaco la nuova strada dimenticata il traffico di una gran velocità non si vede mai un vigile e a proposito di vigili le suggeriscono anche a lei alla nuova comandante della polizia locale di istituire una pattuglia di file chi moto per sanzionare il pericoloso conducente che telefona alla guida e adesso questo lo demandiamo al nuovo comandante della polizia municipale però concordo che con chi guida telefonando bisogna essere severi perché veramente si è dei pericoli l'ho sperimentato anche in prima persona non ci vuole nulla basta mettere il viva voce in macchina ma per favore non utilizziamo il cellulare quando guidiamo perché ci si distrae e la percentuale più alta di incidenti è causata proprio dall'utilizzo improprio di telefonini mentre si guida e lo vediamo tutti i giorni quando davanti a noi c'è una macchina che non si capisce bene cosa faccia magari guardiamo con più attenzione e vediamo che sta parlando al telefono e allora su questo concordo sulla severità via Filippo Bracci in zona San Lazzaro ci dicono che la strada non è pulita e poi ancora lo spartitraffico via Enaudi e Filippini c'è una voragine e quindi in questo caso una pericolosità chiedono anche delle zone delle aree adeguate per i cani sì noi abbiamo io mi ero preso personalmente un impegno per degli sgambatoi per cani ne abbiamo realizzati due uno a Bellocchi ed uno a Fano due vogliamo realizzare anche gli altri è un impegno che vogliamo portare avanti nel 2020 contiamo di farne almeno un altro paio poi come dicevo prima anche queste piccole cose richiedono delle persone che dietro alla scrivania le progettino anche se sono piccole in questo momento abbiamo un disagio dato proprio dall'aspetto interno organizzativo speriamo di superarlo in un breve periodo e quando ritorniamo nella normalità facciamo anche questo ma comunque previsto nel 2020 l'obiettivo è arrivare in tutti i quartieri con degli sgambatoi e dare la possibilità a chi ha un cane di poter utilizzare degli spazi in libertà e in serenità dunque ci chiedono via Chiaruccia la zona dove c'è la rotatoria della Saipem anche lì sta cominciando ad essere pericolosa ancora che scrivono poi del digestore da mese le strisce pedonali di via Pertini non sono più visibili quindi anche qua state procedendo però con il rifacimento della segnalità anche su questo stiamo ragionando con il bilancio che verrà per il 2020 di fare un global service che ci consenta di intervenire in tempo reale perché altrimenti non siamo in grado di dare le risposte che la città si aspetta e parlo delle manutenzioni ordinarie sia delle buche sia della segnaletica orizzontale oggi noi siamo in una forte difficoltà perché non abbiamo più le persone che ci lavorano internamente c'è stata una riduzione che è aumentata negli anni adesso siamo veramente in una fase di grande sofferenza per cui come hanno fatto altre amministrazioni stiamo ragionando di un global service che gestisca tutto quanto e possa rendere un servizio anche veloce in termini di risposte e di interventi Sotto passaggio di Viale Cairoli che è in condizioni pessime lo rifaremo completamente nuovo va di pari passo con quello di Via Nazario Sauro verrà rifatto sarà un sottopasso ciclabile e pedonale non come quello che vediamo oggi sarà molto più lungo una parte in trincea e una parte in galleria avrà le stesse dimensioni di larghezza e di altezza però ovviamente sarà fatto con canoni nuovi più luminoso e con attenzioni nuove Ci scrivono addirittura da Iesi per parlare del digestore ci chiedono di poter coinvolgere i comitati vedremo che cosa possiamo fare ci scrivono in tanti anche dal quartiere dell'Arzilla sono arrivati circa una decina di messaggi per chiedere della pista ciclopedonale Paleotta Arzilla quindi se hai anche del ponticello leggevo il messaggio di prima si è tutto è una pista ciclabile che prevede anche la sistemazione del ponticello illuminato insomma un bel lavoro io puntavo a realizzarla entro l'estate che abbiamo lasciato alle nostre spalle però anche noi dobbiamo combattere con una burocrazia con alcuni problemi che ci creano strada facendo però il progetto adesso è arrivato a fase terminale deve realizzarla ASET perché abbiamo dato mandato ad ASET con un finanziamento anche importante che rientra fra l'altro nel progetto IT e quindi conto insomma per la primavera prossima che ci sia ci dicono che in via della colonna le macchine sfrecciano così come in via Dante Alighieri e poi perché non è possibile fare una variante nel nuovo rotatore vicino all'imbocco dell'autostrada per poter entrare in superstrada a direzione Roma non è possibile perché questo è stato un problema a monte oggi ormai i lavori sono finiti lì perché c'era se non sbaglio l'avevo già spiegato in un'altra occasione di primo cittadino perché quando è stato fatto il progetto che prevedeva anche l'ingresso sulla E78 venendo diciamo dall'aeroporto ma hanno dovuto modificarlo per abbassare il cavalca il cavalcavia per rispetto del cono dell'aeroporto perché bisognava tenere una certa altezza e per consentire anche oltre all'uscita anche l'accesso dentro la E78 si dovrebbe avere avuto un'altezza della strada più alta e questo non è stato possibile e non sarà possibile Buonasera ci scrivono da Bellocchi è un anno che sono in attesa di un riscontro per la viabilità sulla rotatoria tra le vie prima non ottava settima e sesta strada c'è un divieto per i camion ma non viene mai rispettato quindi ci dicono è ora di agire e poi come mai non si fanno i consigli di quartiere come a Pesaro sindaco? Allora intanto perché Pesaro è città capoluogo e Fano non lo è le circoscrizioni sono state abolite consentite soltanto nelle città capoluogo questa è la prima spiegazione poi si può lavorare ovviamente con un certo tipo di regole senza utilizzo di risorse noi ci siamo dotati di un regolamento che è stato approvato a fine mandato che prevede l'istituzione di nuovi consigli di quartiere che io sostengo e reputo che siano uno strumento molto utile perché aiutano alla condivisione alla partecipazione e alla conoscenza di tutti i territori anche se Fano non è una città come Milano la si conosce bene ma io so benissimo e lo dico da sindaco che avere la presenza di rappresentanti anche dei quartieri ci aiuta molto e il regolamento prevede la sua applicazione entro un anno dal nuovo insediamento quindi abbiamo una tempistica adesso volevo portare alcune modifiche al regolamento che ci portino a dei risparmi perché l'attuale prevede delle formule che ci portano anche per le elezioni rappresentative dei costi forse un po' alti e vorremmo adottarla per evitare queste spese come fra l'altro avviene nelle elezioni che si stanno svolgendo in questo momento a Pesolo però Pesolo è città capoluogo e le ha sempre mantenute Buonasera vorrei sapere se in previsione la sistemazione della strada Ferriano-Sant'Angelo abbiamo avuto un'emergenza sanitaria poco tempo fa e l'ambulanza non riusciva ad arrivare a causa della strada quindi se potete insomma segnare anche questa via questa segnalazione stessa cosa per la ex vicinale di Monte Giove che dall'ermo scende e si collega con la strada comunale che va verso Magliano inoltre chiedono anche informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della nuova piscina sta andando bene sono già partiti adesso proprio stamattina mi sono sentito con il presidente della fondazione per decidere la data simbolica della posa della prima pietra ma in realtà sono già partiti i lavori dicono non si parla più del palazzetto dello sport sindaco impianti sportivi sono i doni abbiamo parlato c'è un tavolo un gruppo di persone che sta lavorando sulle caratteristiche che deve avere il palazzetto per arrivare al bando di progettazione nel 2020 ovviamente sono cose complesse non è che si fanno in una settimana ci chiedono anche dell'asfalto in via Castellani e se il prossimo anno aumenteranno le iscrizioni alla scuola Olivetti di Fano che fine faranno i nostri ragazzi dell'Iceo Nolfi questo è quello che si chiedono e poi dicono anche che in realtà non ha risposto a questo divieto per i camion che insomma non viene rispettato in zona bellocchia ma in realtà c'è poco da rispondere nel senso non si vanno a fare dei controlli oppure è difficile poi scoprire questi furbetti questo poi adesso io con tutto il bene che voglio faccio tante cose ma adesso non posso fare anche le vigili quindi cerchiamo comunque di segnalare tutte queste cose e poi sicuramente ne prenderanno atto magari cerchiamo di far venire una pattuglia in determinati momenti poi in realtà questo accade perché quando ci sono queste segnalazioni noi le giriamo e il comandante adesso la nuova comandante si organizzano poi è chiaro che non è che possono stare dieci ore in una postazione passano alcune volte magari alcune volte si incontrano e alcune volte non li vediamo perché non ci sono però ecco non deve preoccuparsi il nostro cittadino con cittadino perché poi di bell'occhi perché questa segnalazione verrà fatta e faremo in modo che ci sia una presenza saltuaria in quella strada ci chiedono anche di asfaltare la strada comunale della Gaza Carignano purtroppo non possiamo più leggere i messaggi dobbiamo chiudere il sindaco ci dovremmo asfaltarle tutte però tutte non ci arriviamo e cerchiamo di farne il più possibile ci scusiamo con quelli dove non arriviamo perché qualcuno ovviamente sarà più penalizzato rispetto a dati ma questo è inevitabile in qualsiasi parte del mondo dove noi viviamo Prima di chiudere un minuto velocemente sono state presentate alcune delle iniziative che riguardano il Natale e ci sono delle novità Sì intanto mi piace sottolineare che un po' tutte le attività della città in questi anni si hanno cresciute molto e questo lo dico con condizione di causa perché io sono cresciuto in questa città quindi come tutti voi ho sempre vissuto tutte le stagioni sia estivi che invernale devo dire si è elevata molto la qualità dei nostri eventi e francamente per quello che riguarda il periodo natalizio come quello degli ultimi due anni magari in giro per il mondo ce ne sono tante più belle per carità però per quello che riguarda la nostra storia penso a memoria quelli che ho vissuto io penso di averli vissuti quasi tutti anzi tutti da quando ho memoria ricordo la città così organizzati così vivaci e attraenti non ci sono mai stati sia nelle scelte dei colori degli alberi delle attività degli eventi anche quest'anno riconfermiamo tutti i bei eventi il programma dell'anno precedente migliorando le conferme come la via dei presepi anche il presepio di sabbia sarà raddoppiato e quindi visto il grande successo che ha avuto poi San Marco oggi Don Marco ha raccontato anche che ci saranno due nuove scene ma è un presepio straordinario penso unico in Italia e verrà riconfermata la pista di pattinaggio anche in uno spazio più grande quindi vogliamo migliorare ancora questa cosa il trenino la novità vera è il Brico Express e sarà un trenino come quelli che noi vediamo d'estate nelle gite panoramiche o nei lungomare che farà il giro di 30 minuti di tutti i parcheggi fuori le mura del centro storico così creiamo anche un servizio per lasciare le macchine fuori dal centro storico ed essere comodi evitiamo magari anche le attività del centro e porteranno questo trenino porterà la gente in centro penso che tanti bambini chiederanno ai genitori di lasciare la macchina fuori per salire sul trenino ovviamente è un servizio gratuito che ci sarà tutti i mercoledì mattina e tutti i sabati domenica mattina e pomeriggio l'accensione dell'albero sarà il primo dicembre albero tradizionale come lo scorso anno e ovviamente riconfermiamo anche l'altro che sarà nella via dei ciliegi quest'anno ci sarà anche un'attenzione maggiore via Montevecchio via Arco d'Augusto che magari in alcuni anni avevano avuto meno attenzione sono anche lì delle attenzioni adesso lasciamo anche un po' di sorpresa e quindi sarà un bel pincio vuoto lasciamo vuoto il pincio è bello così ovviamente adesso penseremo l'Arco d'Augusto quindi alcune attività saranno anche lì e poi strada con il carnevale insomma ci sono il carnevale con i passaggi festival alcune saranno anche immagini che ricordano questi momenti insomma un programma molto ricco voglio ringraziare anche tutti coloro che si sono adoperati ci saranno nuove illuminazioni delle vie del centro insomma un grazie a tutti quelli che nelle varie forme collaborano perché se questo è possibile è grazie ad una sinergia che c'è fatta dal volontariato dalle associazioni dalla Proloco dal Paese dei Balocchi a collaborazioni di alcuni professionisti ovviamente un ringraziamento anche all'assessore che sta mettendo grande passione e sta seguendo passo dopo passo lo sviluppo di questi eventi di queste iniziative che alla fine sono per rendere la nostra città sempre più bella accogliente piacevole e attraente grazie sindaco io ringrazio anche in regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra per il fondamentale aiuto e supporto sindaco grazie per essere tornato nei nostri studi ci rivediamo a dicembre grazie e buonasera e buonanotte a tutti i fanisi grazie per averci seguito buona serata grazie a tutti i suoi grazie a tutti i suoi